Nel corso dell'ultima puntata del GF, VIP andata in onda ieri, i telespettatori hanno notato l'ennesimo atteggiamento sospetto da parte di uno dei concorrenti. Si tratta del paragnosta Giucas Casella, reo secondo il pubblico di stare, mettendo in atto una vera e propria strategia per guadagnarsi almeno la finale. Il tutto è venuto fuori dopo le nomination palesi, quando il vippone ha deciso di candidare all'eliminazione. Nathalie Caldonazzo Al momento di fare il suo nome, il geffino ha motivato la sua scelta sottolineando di non apprezzare il fatto che la Caldonazzo non si sia ancora proposta per fargli un massaggio. Una motivazione simpatica che ha però smentito pochi minuti dopo quando, parlando con Gian Maria Antinolfi, ha etichettato la geffina come una prepotente entrata in casa a gamba tesa. Una mossa che ha spinto subito il pubblico a definirlo il vero stratega di questa edizione del reality. Le affermazioni del vippone, ma soprattutto le sue ultime mosse, hanno quindi scatenato i telespettatori che vedono adesso una vera e propria strategia. Secondo una grande fetta di pubblico, Jukas in settimana ed in prima serata assume un comportamento volto a non farsi nominare dai compagni. Un atteggiamento che lo renderebbe quindi il vero stratega di questa edizione. Quando capirete che il più furbo è Jukas sarà troppo tardi. Fa il finto tonto per andare avanti il più possibile e ci è riuscito benissimo. Il comportamento del vippone non convince più nessuno, nemmeno coloro che fino a questo momento lo hanno supportato. Il rischio che adesso il geffino corre è quello di essere però eliminato dai telespettatori alla prima occasione disponibile.